Allora... Stavamo avendo una forza di velle A chi? A quanto? E' Niceretto Pelletto? Scusa, dalla risata di lui No... Cosa si chiama? Giampa Dennis Giampa Dennis E' lui Dennis E lui? Chi è lui? Assuruto, mi spieghi qual'è il bidet attaccando il bidet allora cosa vuoi vendere adesso? questo giubbino jeans che taglia? XXX che taglia? ma c'è una foto che taglia la foto la foto chiunque? jessica jessica, jessica rabbit ma non si può vedere che ci sono delle chiave ehm quindi io non ho prese del prezzo vuoi sapere che ci sono caprese del prezzo quindi guarda cosa? vieta veloce, vantiamo la casa vantiamo la casa eeeh vantiamo la casa 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 e vantiamo la casa c'è un biglione che uve? io mi riesco vantiamo la casa come quale? ah ti aspeti rincus 30 vai che si anima la sorella uo 150 uo 150 e qua 150 155 155 1 190 10 Dennis è lui è lui 202 202 202 perché hai fatto così? potevi dire 300 400 400 ah no mi ha affitto lui non si era metterato mai lui non si era affitto no mi ha affitto lui 425 425 420 420 420 piove levate il computer dall'altro piove alleluia piove su bagnate era il primo che aveva sottosciuto aspettate che piove era bene non è che si interromperà adesso ah eh ormai quanto siamo 410 420 subito 650 562 1000 grande 10.000 euro guarda 50 15.000 euro 15.000 euro 10.000 euro questa è insomma una sfida 15.000 euro 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 but 2 euro 16.000 euro e prima vincita La cosa stai spiegando vicino? La di ci metto? La di ci metto? La di ci metto! La di ci metto? La di ci metto! Mi trovo la mia scopla? Quanta scopla? No, ma quanto è? 30.000 euro? 20.000 euro ha detto! 30.000 euro? 30.000 euro. 30.000! Mi raccomando? ehi ehi 100 125.000 euro non se ne parla ci un'edice 150 100 150 150 200.000 ehi non ci sono superata la lotta questi perciò su lo sai lo sai lo sai lo sai lo sai 201 202 300.000 euro wow 300.000 euro 300.000 euro 300.000 e 2 300.000 euro e 10 4.000 euro 320.000 euro 320 mila euro per un giubbino, grande, 500 mila euro, 500 mila euro, 600, 700, 700, 700 mila euro. 50 milioni e 3, 500 milioni e 3, 500 milioni e 3, 500 milioni e 3, 500 milioni e 2, 500 milioni e 3, 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 500 un'altra città la città quindi quanto fai per la città? 53 ha detto 53 54 milioni 55 40 milioni e 80 30 milioni e 80 300 90 milioni e 80 centesimi e uno Conta bene! Conta bene! 90 milioni e 81 centesimi e uno! 90 milioni e 81 centesimi e uno! 90 milioni e 81 centesimi e uno! E due! 90 milioni e 82 centesimi e due! Allora, che diamo? 90 milioni e 82 centesimi e uno! 90 milioni e 85! 90 milioni e 82 centesimi e uno! 90 milioni e 86! 86! No! 96 milioni! No! No! 86 centesimi! 90 milioni e 82 centesimi e uno! 90 milioni e 82 centesimi e uno! 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 è quello lui faccia dove? un altro numero e disparmi no! è un numero pali è un numero pali è un numero pali ma non lo faccio che faccio questo numero? perché? perché stanno usando il numero ma ho un altro numero e disparmi no! è un numero 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 cos'altro avrei se io pari era il 3 il 4 per esempio tu che disparmi dici? 3 o 5 no! ma se il pari era il 6 dove? se era 10 e se era 3 no! 100 milioni 100 milioni dai eh? 100 milioni 200 no! è 3 eh no! è giudicato! è giudicato! è giudicato! 100 milioni che gentilmente regala grazie ma questo è un'assa che è un'assa di beneficenza è un'assa di beneficenza ma tu quello che ne compriamo non so perché lo rendo a lei scelta!